Differenziarci nell'opposizione da quello che fa Forza Italia, perché non avrebbe senso che gli elettori votassero noi se ci accodiamo alle battaglie di Forza Italia. Noi abbiamo altre battaglie, abbiamo le preferenze nella nuova legge regionale, Forza Italia non le vuole, per noi è un punto fondamentale. Poi tante altre cose, le indagini conoscitive sulla mafia, sul parco di San Rossore Migliarino, credo che noi faremo un'opposizione vera, cosa che non è stata fatta fino ad adesso.